A Subbiano Festa della Musica e Festa della Toscana si sono unite in un musical anni 80, i Miserabili, a cura del Coro Sinfonia, con una proposta arrivata dalla Proloco e il patrocinio del Comune di Subbiano. Il Coro Sinfonia vorrei dire che proprio fa le prove qui all'interno di questa struttura. Sì, vengono insieme alla Filarmonica, insieme a altre associazioni, vengono a fare le prove tutti, mi sembra tutti giovedì sera, qui presso la nostra sede. Avevamo fatto precedentemente già un altro esperimento di questo tipo, Jesus Christ Superstar, qualche anno fa l'abbiamo portato in giro anche quello per i teatri e le varie location di tutta la vallata casentinese, fino a Cortona siamo arrivati e il genere piace molto al gruppo. È un bel lavoro perché cantare in una lingua diversa dalla nostra, per un gruppo composto da professionisti, per un gruppo che lo fa per passione, formato da persone che non hanno più vent'anni. Non è molto facile entrare in contatto con un linguaggio e con una vocalità di un certo tipo. A me è stata una sfida per noi, ci ha unito ancora di più e ha dato la possibilità al coro di mettere in pratica una delle motivazioni che lo tengono vivo e cioè di avere al suo interno collaboratori giovanissimi a cui dare spazio e a cui dare valore.